Quasi 9 milioni a boffalora per un nuovo polo scolastico. Il comune del Magentino si conferma anche quest'anno fra i meglio premiati da Regione Lombardia in termini di finanziamenti per opere pubbliche. Il progetto presentato dall'amministrazione comunale al bando regionale e spazio alla scuola è stato giudicato come uno tra i più innovativi risultando undicesimo su 49 progetti ammessi. La Regione Lombardia ancora una volta si dimostra la Regione del fare, ci sono stati diversi finanziamenti in questi ultimi anni per i comuni a partire da quello che abbiamo fatto come Piano Lombardia, quindi investendo sugli enti che sono più vicini ai cittadini, quindi dando risorse a investimento per i comuni e questo bando ne è la dimostrazione, questo è un bando per le scuole che sono gli edifici secondo noi che sono anche quali più importanti per i nostri giovani, per le generazioni future che tanto sappiamo che in Italia hanno bisogno di essere sistemati. Siamo stati in graduatoria inseriti all'undicesimo posto su 49 progetti ammessi. Il nostro progetto è stato ritenuto tra i più esemplari in termini di innovazione, di sostenibilità ambientale, di integrazione tra quello che è la progettazione e la didattica. L'idea della nostra amministrazione di andare a lavorare su un progetto di un polo scolastico nasce da un'analisi dello stato in cui si trovano le nostre scuole, gli edifici delle nostre scuole. Abbiamo dovuto intervenire con diverse opere di manutenzione, abbiamo avuto dei problemi sia a livello strutturale che a livello di impianti e quindi queste manutenzioni continue che abbiamo dovuto fare hanno portato anche dei costi notevoli al nostro comune, creando anche dei disagi a quello che è l'attività didattica attuale. Come consigliere io sono anche ovviamente molto contento perché anche Bofalora è rientrata in questo bando, in graduatoria. Sendo stato dieci anni il sindaco e adesso insieme al sindaco Doniselli abbiamo continuato quella che era l'amministrazione che avevamo iniziato più di dieci anni fa con tutta una serie di progetti. Ecco questo è ancora una volta il coronamento da un lato dell'azione amministrativa del comune che ha fatto una programmazione oculata dei progetti per le esigenze dei cittadini e dall'altro dove c'è Regione Lombardia che con il Presidente Fontana ci ha dato una grandissima mano in questi anni.